Una delle attività del progetto Cascade è la comunicazione. L'obiettivo iniziale del progetto è quello di studiare, conoscere le biodiversità che caratterizzano i nostri ambienti costieri, marini e anche terrestri, al fine proprio di poter proteggere e ripristinare quelle che sono le biodiversità. Se non c'è comunicazione, quindi non c'è diffusione di queste conoscenze che vengono acquisite all'interno di questo progetto, uno degli obiettivi di protezione viene a mancare. Questo perché le conoscenze sono a livello scientifico, tecnico, vengono raccolte da diversi professionisti, quali geologi, biologi, chimici, ingegneri, però bisogna metterle in pratica. Noi al fine di raggiungere questo obiettivo abbiamo organizzato una serie di eventi, ovviamente sono sparsi in tutto il tratto adriatico italiano e croato, ma noi come Regione Puglia insieme a Unisalento e CMCC abbiamo organizzato diversi eventi per le scuole con i sub per far conoscere quindi il mare anche dall'interno e organizzeremo in futuro diversi webinar anche con professionisti, stakeholder, società di pesca, proprio al fine di far conoscere i nostri obiettivi, le nostre conoscenze, il nostro bagaglio che stiamo costruendo pian piano alla popolazione più ampia.